Ed eccoci nuovamente qui e dobbiamo dire anche una cosa probabilmente ci stiamo abituando forse un pochino troppo due settimane fa dopo la partita di San Siro Oggi dopo la partita di ieri contro la Fiorentina che già sono due appuntamenti abbastanza insoliti gli anti juventini dopo queste due partite quantomeno negli ultimi anni In più ci vai ad aggiungere anche quello contro la Lazio di inizio stagione insomma c'è una continuità abbastanza sorprendente vedendo spesso e volentieri quello che è il valore delle squadre che vai ad affrontare Ma è una roba semplicemente meravigliosa veramente guai a lamentarsi per un qualcosa di questo genere proibito totalmente proibito lamentarsi per potersi ritrovare qui oggi Anzi ce ne fossero di volte in cui no tipo anche non lo so il 27 novembre sarebbe un qualcosa di semplicemente meraviglioso ritrovarsi qui succederà Non lo so obiettivamente non lo so ma dobbiamo anche fare giustamente step by step non è che possiamo subito pensare bam a fine novembre Intanto godiamocela oggi perché nonostante tutto nonostante come al solito possa sembrare anche abbastanza impossibile di roba ce n'è e neppure troppo poca E quindi prima di entrare nel merito andiamo abbastanza subito al sodo un bel mi piace ragazzola un bel mi piace un bel mi piace Anche in questo caso se dopo la partita di San Siro che cos'è mi avevo chiesto i 3500 in questa circostanza direi dai 3000 Perché comunque c'è una differenza tra le due squadre anche abbastanza evidente sia in questa stagione che proprio a livello storico Quindi 500 mi piace in meno però qualora ne vogliate lasciare anche di più va benissimo Io metto una base io metto una base poi voi fate tutto il resto a vostro piacimento e ci mancherebbe altro E se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi che è una roba sempre estremamente importante Iscrivetevi e non fate i maledetti Detto questo ragazzuoli senza perderci in ulteriori chiacchiere direi premessa e partiamo E questa è sempre una partita speciale per loro ovviamente mi sembra superfluo aggiungere queste due paroline Ma facciamolo facciamolo perché non vorrei mai venire troppo frainteso Sappiamo che è una partita estremamente speciale per loro Tanto che a maggior ragione se poi la squadra magari arriva da due sconfitte Vuoi non fare un bel discorsino alla squadra a pochi giorni dalla partita Beh direi assolutamente di sì Però sono stati onesti per loro è un derby Avrebbero anche potuto tranquillamente dire per noi è proprio la partita della vita che non avrebbero sbagliato nulla Però dall'altra parte è una partita come tutte le altre E il vero problema è che se la partita che senti di più probabilmente in assoluto Non la vinci nemmeno se la squadra avversaria decide di non giocare come proprio voi avevate inizialmente richiesto Un problemino di fondo probabilmente c'è e probabilmente anche più di uno se dobbiamo essere onesti Ma va bene così va bene così Dopo giustamente dopo due sconfitte si cerchi in un qualche modo di caricare la squadra Se non basta neanche questo io dopo lì Ovviamente queste sono dinamiche loro e ci mancherebbe altro Poi però purtroppo perché è veramente un purtroppo questo E non vorrei che questo purtroppo venisse in un qualche modo frainteso Perché lo è veramente a Firenze ma in Toscana e più in generale Succede quel che succede Succede quel che succede dove sappiamo anche bene Che inizialmente non si era chiesto il rinvio o quantomeno l'aveva fatto solamente la curva della Fiorentina Poi nella giornata di ieri ci sono state diverse pressioni politiche Perché è evidente che fossero tali per rinviare la partita Solo che l'osservatorio ha detto che comunque c'erano tranquillamente i presupposti Per poterla giocare per quanto riguarda la sicurezza Le forze dell'ordine non sono state sottratte dalle zone alluvionate Quindi insomma alla fine si è optato per giocare comunque regolarmente la partita Solo che ovviamente tutto questo, la cosa che mi fa un pochino ridere E che magari anche questo lo si utilizza fondamentalmente per buttare merda nei confronti degli altri Oggi questa sciarpa resta a casa Per noi vincere non è l'unica cosa che conta Per noi viene prima la salute e il poter aiutare persone che hanno perso tutto Bravissimi, per l'amor di Dio, nessuno mette in dubbio questo Ma non si capisce perché necessariamente dirlo con la sciarpa Juve merda O usare il motto della Juventus per noi viene prima la salute Non penso che per i tifosi della Juventus No, viene assolutamente prima la partita di caldo Posso capire che sia estremamente bello e anche magari estremamente facile Soprattutto se Fiorentini fare like in questo modo qui Con politica veramente da quattro soldi Poi però purtroppo c'è una realtà che è completamente differente Che è una cosa un pochettino diversa Tutte le forze dell'ordine impiegate per la partita di stasera Dovrebbero essere con la pale stivali nelle zone alluvionate Cosa che l'osservatorio ha smentito tra le altre cose Poi appunto nel momento in cui si vuole andare sulla demagogia più totale È estremamente facile tirare insieme 4-5 rutti E pensare di aver partorito un post geniale Quando fondamentalmente è una cazzata totale Ma su questo siamo comunque tranquillamente abituati Magari non su questo tema specifico per fortuna Ma meno male quando si parla di Juventus E spesso e volentieri vediamo appunto rutti di questo genere Questa partita più di altre per noi significa divertimento Sfottò, urla di gioia e spensieratezza Tutte cose che stasera non ci possono essere Anche lo sfottò non c'è mai Perché si vedono molto di più magari cori razzisti nei confronti di Blauvic Sciarpe, cori, bandiere del Liverpool Che ricordano una strage Non proprio uno sfotto o divertimento Poi se voi vi divertite a fare certe cose È un altro paio di maniche Che comunque la dice abbastanza lunga su ciò che siete Quindi bisogna comunque trovare un certo equilibrio Decidete da che parte stare Ma a prescindere non è che c'è una parte particolarmente felice Ecco, io scommetto che se c'era Juve Fiorentina E fosse successo l'alluvione a Torino La partita veniva rinviata Ma siccome anche la FIGC è gobba Bisogna aiutarli Vedete, qui ad esempio il ritardo Lo si evince tranquillamente dal FIGC Scritto in quella maniera Tradotto quasi sicuramente È un seguace di Ziliani Quindi sicuramente non può andare a partorire delle idee Particolarmente celse Solo che in tutto questo io non capisco che cosa significa Aiutare la Juve nel momento in cui decidi Di non posticipare la partita Probabilmente qualora ci fossero stati 6.000 insulti in più Vedendo che pare siano 6.000 i tifosi della Fiorentina Che hanno disertato allo stadio La Fiorentina quindi avrebbe vinto Avrebbe giocato una partita totalmente differente Rispetto a quella che è andata a giocare Dove nonostante 21 tiri in più Verso lo specchio della porta Della Juventus ha comunque ottenuto meno expected goal La Juventus con tre tiri 1.086 la Fiorentina Con 550.000 0.68 Non capisco bene Cosa c'entri Il volerli aiutare con Eh vabbè ma se fosse capitata Torino Sarebbe stata posticipata Rimandata la partita Quando c'è stato l'alluvione in Romagna Non è stato posticipato un cazzo Non è stato rimandato un cazzo C'è stato il minuto di silenzio Come c'è stato nella giornata scorsa E tanti saluti Dove anche lì la situazione Non che fosse particolarmente felice Per i territori della Romagna E vivendoci personalmente Lo so anche abbastanza bene Poi dopo torni anche sempre i soliti discorsi Hai visto che comunque il Pisa ha giocato La Fiorentina femminile ha giocato Il Pontedera ha giocato Il Luca Comics c'è stato Un concerto anche abbastanza importante C'è stato Eh no Però volete mettere Fiorentina Juventus Sia mai Sia mai Ho letto anche un evento ai Gigli Che aveva cos'è 6.000 8.000 persone Una roba di questo genere Regolarmente svolto Eh però Fiorentina Juventus Sia mai Sia mai Perché la FIGC Fi scritto ovviamente Collilunga Cerca in tutti i modi Di favorire la Juventus Come se la partita fosse iniziata Sullo 0 a 1 Poi certo Ce la siamo costruita E in 10 minuti è andata così Però poi Come al solito C'è la realtà Che è una roba Completamente differente Però ormai Ci dobbiamo definitivamente focalizzare Sulla partita E comunque Vuoi o non vuoi Andare al Franchi Non è mai Una cosa molto semplice Anche perché L'ultima volta che la Juventus Al Franchi ha vinto In campionato Era il 2018 Quindi Vien da c'è Che facendo una rapidissima Botta di conti Sono 5 anni Sono 5 anni Quindi questo fa capire Quanto non sia poi così facile Vincere al Franchi Soprattutto Contro le ultime Fiorentine Che sono squadre Abbastanza attrezzate Che hanno diverse Individualità Non proprio banali Quindi è legittimo Avere sempre Un pochettino Di paura Ecco Non a livello Di rivalità Come Sentono loro Come millantano Anche loro Ci sia pure Da parte Della Juventus Però proprio A livello di A giocare Una partita In trasferta Contro la squadra Che contro di te Fa la partita Della vita E che soprattutto È una squadra Estremamente valida E quando hai Questa paura Questo timore Di fatto c'è solamente Una persona In grado Di tranquillizzarti Ecco i tre motivi Per cui la Juventus Cadrà a Firenze Giancarlone Padovan Che emette La sua sentenza Io prima Di iniziare La partita Vorrei ricordarvi Semplicemente Che siete Degli animali Degli animali Ma Si sa benissimo Poi Qual è Il contesto Di Fiorentina Juventus Allo stadio Dove indubbiamente Indubbiamente Sono i tifosi Della Juventus Gli animali Della situazione E ci mancherebbe Altro Stessi animali Che a momenti Ieri Menavano pure Il figlio Dell'allenatore Della loro Squadra del cuore Perché l'avevano Confuso Per un tifoso Della Juventus Ma ovviamente Gli animali Sono gli juventini E io ci tenevo Semplicemente A ricordarvelo E direi Di fare iniziare la partita Dove molti Anche legittimamente Ad onor del vero Vedendo quello Che è successo Durante il match Potrebbero dire La fai già finire La fai già finire La partita Perché non è successo Letteralmente La fai già finire Chino Ammetti che No Non la faccio già finire Perché un paio di circostanze Ci sono Ad esempio Faccio finire il primo tempo Questo assolutamente sì Anche perché Dieci minuti Gol di Miretti Tutti dietro E vediamo poi Che cosa succede Nulla Spoiler Però nel primo tempo Se al posto del brand Ci fosse stata Un'altra squadra Andava negli spogliatoi Almeno con tre ammoniti Ho visto Costi ci fare Tre falli consecutivi Senza essere ammonito Probabilmente Fagioli Aveva giocato Un'ammunizione A parte la battuta Che fa estremamente ridere Ci mancherebbe altro Trattenetevi Perché devo andare avanti Vi prego Bellissimo vedere Però come per stare Dalla parte del sicuro Rabiot Abbia preso Giallo Nonostante No Fosse anche Tra l'altro Indifida Per un fallo inesistente Con Biraghi Che calcia Collascia Fa finto ovviamente Di stramassare Come tutta la rosa Della Fiorentina Così come tutta la rosa Del Verona Sabato scorso Però l'arbitro Tra l'altro Girato Che quindi Rabiot Non lo vede neppure Fischia fallo Sulla fiducia Perché Perché sì E giustamente Abbonisce Rabiot Meraviglioso Meraviglioso Però d'altronde Quando se la si suona Se la si canta Questo E tanto altro Quindi direi Di far iniziare Il secondo tempo Dove anche qui Una persona normale Direbbe Beh Non è successo Comunque nulla Quindi direi Subito Di far finire Per la partita Per l'amor di dio Che io vi darei ragione Però Come ho appena detto Se qualcuno È normale E la cosa bella È che se andate A vedere Anche proprio Sui social Letteralmente Nessuno Letteralmente Nessuno Reclama Particolari Episodi arbitrali Spoiler Anche perché Magari Non ce ne sono stati Potrebbe essere Un motivo Qualcuno potrebbe Pensare Sulla carta sì Però poi C'è sempre Una tifoseria Particolarmente Solita A queste cose Provenienza Città laggiù E chi vuole Intendere Intenda Probabilmente Avrete già intuito Di che tipo Di tifoseria Il sottoscritto Stia parlando In questo momento Dove appunto Per farvi capire Neanche i tifosi Della fiorentina Si sono lamentati Per particolari Episodi arbitrali Anche perché Spoiler Non ce ne sono stati Però poi ci sono Gli interisti Dopo Lì purtroppo Non ci puoi far nulla Quando ci sono Gli interisti Di mezzo Non ci puoi fare Letteralmente nulla Rigore netto Per la fiorentina Il Vare Era al bar Con anche Il classico Vittimismo Giornalistico Di Cavasini Lautaro Ferguson Vale solo a San Siro Anche perché È una partita Tra Inter e Bologna Non vedo come mai Deba valere a Firenze Tra una partita Tra Fiorentina E Juventus Lì Onestamente Sono anche Proprio bella Che cazzi vostri Così Per dire Eccone un altro A parte che Uno brobrio Grammaticale Già Alla seconda parola Ma va benissimo L'ennesimo errore A favore Il Vare Continua a vedere Far finta di nulla Questo è il campionato italiano Il palazzo Vuole che Gobi Vincano lo scudo Per giustificare La porcata Delle plusvalenze E bilanci falsati Frase che non ha letteralmente Il minimo senso Ma d'altronde È un'altra idea Partorita Città laggiù Esattamente come L'ipotetico Ma molto improbabile Ad onor del vero Rigore Non dato Alla Fiorentina Perché è ovvio È molto facile Vedi Un uomo Che stramassa Letteralmente Dopo essere stato sfiorato Da un'inquadratura Di mezzo chilometro Viene anche quasi naturale Pensare No È rigore Guarda come collascia in aria È rigore per forza Da questa inquadratura Non si vede un cazzo Ma se un giocatore Collascia nell'aria Della Juventus È rigore per forza Perché Perché sì Poi sarebbe Magari anche un pochino Un pochino curioso Vederlo Da altre inquadrature Dove Percepisci che non sia successo Letteralmente nulla Con tanto Dinzolà Che invita Nico González A rialzarsi Però se la tifoseria La partita dove la Juventus Vince Rubando un po' qua E un po' là Ovviamente È accentata Perché è verbo essere Ma vince E c'è poco da fare Però si possono fare Ovviamente Le prime analisi Anche abbastanza rapide I soliti Rotti in culo Aiutati da Gravina e Rocchi È assolutamente Mi sembra tutto quanto Estremamente lineare Anche perché Per l'ennesima volta Almeno cinque cartellini Inondati I calciatori Della Juventus Picchiano Che sembra un match Di MMA E l'arbitro Non ammonisce Poi Per assurdo Come detto prima Arabio Da un giallo Totalmente inventato Agatti Da un giallo Totalmente Esagerato Arthur In ripartenza Ferma Un giocatore Della Juventus Ammonito Neanche per sbaglio Nico Gonzalez Frane In un modo Anche particolarmente Pesante Su Rugani Anche lì L'ammunizione Nel dubbio Non si dà Nemmeno per sbaglio Eppure ieri Dato che si parla Tanto no Di gestione Di cartellini Come si vede Nel momento in cui Almeno cinque gialli Non sono stati dati I giocatori Della Juventus La Juventus Ieri commette Diversi falli Perché ne commette 21 Però comunque Almeno tre gialli Se li becca Due inventati Ma almeno tre gialli Se li becca Quindi bene o male Una media Di un giallo Ogni sette falli Oh Però Chissà come mai Dall'altra parte Si parla sempre Di gialli Non dati alla Juventus Ma dall'altra parte La Fiorentina Ne fa 12 E prende solamente Un giallo Tra l'altro Per proteste Aranieri Quindi di 12 falli Effettuati Nemmeno l'ombra Di un cartellino giallo Lo prendono Perché Decidono Di protestare Dopo che non era Stato dato In presa diretta Un fuorigioco Che indubbiamente C'era Ma volete mettere I cartellini gialli La famosa Gestione Dei cartellini Un pochino Particolare Un pochino Particolare Almeno questa volta Non abbiamo la media Di un giallo Ogni 4 falli Almeno sto giro La media di un giallo Ogni 7 Una media Un pochettino più umana E bene o male In linea Con la stragrande Maggioranza Delle squadre di Serie A Poi è vero Che eravate stati abituati Particolarmente bene In questa giornata Dove ogni due falli C'era un cartellino giallo Nei confronti Di un giocatore Della Juventus Però Anche meno Non si può pretendere Nemmeno che sia proprio Sempre 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 Così L'Inter dovrà vincerle tutte Per lo scudetto La Juventus Ancora tante amiche Ex rivali Come la Fiorentina Sicuramente Molto amica Della Juventus E si vede Dalle dichiarazioni Oltre che dei tifosi Che vabbè Proprio Dei proprietari Della Fiorentina Dei dirigenti Della Fiorentina Proprio quella squadra Estremamente amica Ci mancherebbe altro Partita truccata La Fiorentina Non giocava Praticamente Rubentini Come al solito Va bene Non posso neanche Troppo dar torto Perché capisco Tenere sempre Il pallino Del gioco in mano Fare 2000 tiri Ma 2500 Sono in curva Cioè di fatto E giocare Senza giocando Non ha troppo torto Purtroppo è lo specchio Del calcio in Italia Allegri sa bene Com'è arrivare i vertici Questo va benissimo In Italia Mettici che ha pure Sette giorni Per preparare la partita Io ho pochi dubbi Che se la giocherà Fino all'ultimo Con l'Inter Ma superato i confini Cominciano i problemi E questo lo dice la storia Beh Però La storia Bisognerebbe anche conoscerla Ad esempio Perché la Juventus Dopo il Milan E la squadra italiana Con più titoli internazionali Nel momento in cui Ne ha undici È vero Massimiliano Allegri Non è che ha questo calcio Spettacolare Però se si parla di Europa Allegri Juventus Si parla comunque Di due finali Di Champions League Dove è perso Contro Probabilmente il Barcellona E Real Madrid E tra i più forti Della storia Tra le altre cose In un'altra circostanza Si è uscito Cos'è Ai quarti Dopo quasi Una partita Capolavoro A Madrid In un'altra circostanza Contro il Bayern Monaco Comunque una squadra Della Madonna Se la storia Deve dire le cose Quanto meno Facciamogliele dire Abbastanza bene O quantomeno Iniziamo a partorire Idee Un pochino più normali Ecco dopo Sarebbe forse anche Pretendere troppo Questa roba qui Ma fa lo stesso E ci accontentiamo Comunque Anticalcio La Juve Mamma mia Zero errori Obiettivamente qui Ma esultano pure Io mi vergognerei Mamma mia Inguardabili Allora Allora Se mi dici così Inizio a essere triste Inizio a essere triste Perché l'idea Di vincere Quella che per voi è La partita della vita Senza giocare Mi deve provocare Adosso una tristezza Adesso che lo so Che sicuramente La prossima volta Lo farò Tanto anche sicuramente La prossima volta Finirà così Quindi anche sicuramente La prossima volta Inizierò Ad essere triste Per questa roba Assolutamente Rimarranno sempre ladroni E giusto che voi Vi ricordiate Anche questa piccola cosa qui Non ho nulla Da ridire a riguardo Il palazzo Azzerato alle malefatte Juventus Passate con un arbitraggio Che ha favorito Il non gioco Sorvolando su falli Continui Juve E portando la partita Sul binario Ad essere più congeniale All'estero Vedendo questa non partita Capirebbero subito Perché il campionato italiano È sceso così in basso Come è sceso in basso Ma cavoli L'amministratore delegato Della Serie A Mi dice che è il campionato Più bello del mondo Anche perché c'è una finalista Per ogni competizione europea Tra cui poi Proprio voi Nella più sfigata Dove ovviamente Tra le altre cose Andate a perdere Al novantesimo E ancora godo Però è impossibile È impossibile È vero Che spesso e volentieri La Juventus È accostata Al calcio italiano E il calcio italiano E la Juventus Ed è bellissimo Vedere come indirettamente Lo riconosciate anche voi Però Adesso Una squadra italiana Per ogni Finale Di competizione europea Adesso non potrà essere Colpa della Juventus Se il campionato italiano È sceso in basso No Voglio dire Vi fate tanti autopompini Quando accadono queste robe Poi alla fine di tutto Comunque la colpa è Della Juventus Se il campionato italiano È sceso in basso No Questo giochino Non si fa Non si può minimamente Fare questo giochino Ho avuto la nausea Vedere ste partite Mi dispiace Per chi lavora Tutta la settimana Per creare bel gioco E poi deve perdere Mamma mia Ho il vomito Così le voglio vincere Pure io le partite Ogni partita Ha un autogol Ma a noi non capita mai Finirà Deve finire Contro l'Inter Ci sarà finalmente La scoppola Cinque ne prenderà Cosa che non è minimamente Ed escludere Anzi dipende anche molto Da come approccerai La partita Questo Senza ombra di dubbio Poi Io Tutto questo Grande bel gioco Della Fiorentina Ieri Non è che l'abbia visto Ma se mi fa Se mi fa star bene L'idea che sia stato così Va benissimo Ci mancherebbe altro Poi che cos'è Che ogni partita Ha un autogol Dove Io non so da quant'è Che non capiti Un autogol A favore Della Juventus A noi non capita mai Neanche noi Neanche noi Il bel gioco Qual è stato Qual è stato Cross a tamburo Speriamo magari Di azzeccare Con un tiro Dalla tre quarti Da parte di Biraglio Di Mondragora Che puntualmente Non veniva mai azzeccato Particolare Questo modo Di fare bel gioco Ma va bene così Anche perché Giustamente Ci sono dei tifosi Della Fiorentina Che la prendono Con estrema filosofia La partita di ieri E giustamente Tra l'altro Peccato per il risultato Ma disintegrarli E ridurli così È una goduria La sfortuna Non si può controllare Io non so Quale tipo di partita Tutto sommato Questo qui Si è andato a vedere Ma se sta bene a lui Figuriamoci a me La Fiorentina Meritava di vincere Con tre gol di scarto È incredibile Però come in tutto questo Nonostante 21 tiri in più Abbia fatto addirittura Meno expected goal Della Juventus Che ha fatto Quattro tiri totali Eh però Meritava di vincere Con almeno Tre gol di scarto Tira 42 volte In curva Fiesole È un segnale evidente Di come meriti Di vincere Con quanto meno Tre gol di scarto A Narnia Probabilmente sì Poi per l'ennesima volta C'è la vita vera Che dà spiegazioni Un pochino Differenti Ecco Se questo è il calcio italiano Guarderemo dal divano I prossimi dieci mondiali Ma fosse vera la madonna È proprio quello Che questa federazione Ci merita Fosse davvero così Ma speriamo anche Che tra due tre settimane La situazione Possa essere la stessa Identica Anche per quanto riguarda Gli europei Perché è facile Andare a vincere Gli europei Con i giocatori Della Juventus Che ti vanno a carriare La competizione Tra Bonucci Tra Chiellini Tra Chiesa Facile Molto facile Quando questi non ci sono Tutto quanto È un pochino più difficile Come se vince E fosse vero Che neanche si va a fare L'europeo L'estate prossima Fosse veramente così Detto questo Io ci tengo a concludere Con una roba Obiettivamente meravigliosa Con Una tifosa Che si lamenta Di Dusan Vlaovic Giustamente Perché Voglio dire È un ragazzo Di 23 anni Che ogni volta Che torna a Firenze Gliene dicono letteralmente Di ogni Dagli insulti normali Ai cori rassisti Fischiato per 90 minuti Ma per l'amor di Dio Il fischio e basta Può essere anche Legittimo Nel momento in cui La tifoseria Ci è rimasta male Per il suo approdo Alla Juventus Ormai quasi due anni fa Giustamente Quelli della Fiorentina Nei confronti di Vlaovic Possono dire letteralmente tutto Tra cui appunto Cori rassisti Perché sono tranquilli Che non verranno da spati A differenza magari Dell'Allianz Stadium Un'ora dopo la fine Di Juventus Inter La Digos Aveva già in mano Tutte le telecamere Per andare a riconoscere I responsabili Per poi puntualmente Da sparli E si parlava Di 170 individui Quindi Non si sentiva Neanche poi più di tanto Durante la partita No? Dalla televisione Gli ululati E quant'altro Però Nel momento in cui Hai delle attrezzature Tempo 448 Prendi Riconosci Daspi E tanti saluti In altre circostanze Nonostante Dei cori Chiarissimi Anche dalla televisione Che quindi Presumibilmente Fatti da centinaia Centinaia di persone I Daspo Mai nella vita Però appunto Quelli della Fiorentina Possono fare Anche di questo E siamo Abituati Come quello Con la maglia Del Liverpool Dell'anno scorso No? Col figlio Che inizialmente Era stato Daspato Poi via Revoca Anche del Daspo Perché era un tifoso Del Liverpool Quindi proprio Siamai Vlaovic però Non si può Minimamente permettere Di dire Ai tifosi Della Fiorentina A fine partita Dopo altri insulti Dai che la prossima La vincete Assolutamente no Bene Siccome giustamente I tifosi Le multe le prendono E a volte Anche qualche Daspo E' ora di multare Anche questi signori E comunque Vlaovic Fai la riserva Nella Juve Peggiore della storia Abbassa pure La cresta E voi Nonostante tutto Siete riusciti A prenderlo nel culo Contro la Juventus Più scarsa della storia Che decide Di non giocare Come da voi richiesto Pensa invece Alla fine della fiera Quello che è Il vostro livello Vlaovic dovrà Abbasciare la cresta Ma voi dovete stare Proprio ben che ben zitti Ma veramente Veramente Tanto E detto questo Ragazzuoli Nulla Questo è quello Che sono riuscito A trovare Per la partita Di ieri Probabilmente Nulla di esageratamente Piccante Ma a parte Veramente Due tre commenti Sporadici Proprio direttamente Da città laggiù Nel momento In cui si parla Di una partita Ricolma Di nulla Condito con niente C'è poco da dire Ma mi auguro Che comunque Che il video Vi sia piaciuto E che vi abbia Intrattenuto a dovere Detto questo Ragazzuoli Nulla Io vi mando Un grosso abbraccio Tanto per cambiare Fino alla fine Forza Juve Chau 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 Chau